ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto molto particolare prima di tutto questo video è in collaborazione con altre due fanciulle tra cui fabiana che vi metterò la sua faccina qui e elisabetta che vi metterò la sua faccina qui tutte e tre abbiamo un gruppetto minuscolo che diciamo è riservato a noi tre dove diciamo ho detto il nome nel senso che ho diciamo gliel'ho buttata così come gruppo e noi ci facciamo chiamare in questo gruppo cioè questo gruppo si chiama le makeup angel quindi gli angeli del makeup mi piace tantissimo perché l'altro giorno avevo visto tramite youtube una pubblicità dei delle charlie angels quindi mi è piaciuta tantissimo questa cosa e ho pensato per questo gruppo e quindi di chiamarli in makeup angels quindi è una cosa che diciamo viene da me quindi una cosa che a me piace tantissimo per questo primo a primissimo video del nostro gruppo che poi vi metterò anche la foto del logo che è molto molto carina come primo video in collaborazione abbiamo deciso di cioè io gli ho fatto una proposta mi sto ingarbugliando ma perché io sono molto emozionata perché è una cosa che è uscita da me come primo video io gli ho proposto di fare un video riguardante alcuni acquisti che si fanno tramite alcune youtuber io seguo tantissime youtuber come giuliana make up the light o clio che sono le più famose ma una che veramente mi sta stravolgendo per quanto riguarda il makeup e mi sta diciamo anche non facendo spendere soldi però mi sta facendo scusate mi sta facendo acquistare dei prodotti che veramente io mi ci sto trovando benissimo quindi per me è una scoperta pazzesca e in questo questo video ovviamente ho deciso di chiamarlo dal vangelo secondo giulia cova sapete tutti che quando giulia dice una cosa per noi è come se fosse un vangelo quindi non prendete la male per la parola e tutto perché non è una presa in giro per nessuno ovviamente io sono cattolica quindi non prendere mai in giro assolutamente ma mi piaceva tantissimo perché è vero mentre noi parlavamo sia con fabiana con elisabetta quello che dice giulia cova sinceramente noi lo prendiamo alla lettera e quindi mi è venuto in mente questo titolo quindi dal vangelo secondo giulia cova io spero che lei semmai vedrà questo video rimarrà contenta del titolo e di tutto perché sinceramente un un esperimento che stiamo facendo ed è una cosa che veramente ci tenevo tantissimo perché veramente in base a quello che lei ci spiega perché ovviamente essendo una makeup artist ti dà anche quelle spiegazioni per quanto riguarda il makeup che è ottimo proprio per noi che perlomeno parlo per me che non ne capisco niente perché fabiana è una makeup artist elisa è una una makeup addict nel senso fa dei tutorial fa trucca anche le persone io non faccio vabbè ci siamo noi tutte e tre ci siamo divisi i nostri posti e quindi ognuno deve stare nel proprio posto io sto imparando io spero spero che un giorno possa riuscire a frequentare una scuola di makeup ma non perché voglia fare qualche cosa ma per un desiderio mio personale bando alle ciance e andiamo a vedere cosa ho acquistato tramite video di giulia cova quindi vediamo questo vangelo cosa ci riserva oggi abbiamo scelto dieci prodotti perché veramente ne avevamo abbastanza e quindi non so se ci saranno altre puntate ma credo di sì e quindi vorrei iniziare proprio con tre prodotti che giulia ha fatto vedere proprio nei suoi video ultimamente io li ho presi tutti ma li ho presi già quando li aveva fatti vedere nei preferiti queste cose qua e ho preso questi set di fenty beauty dove troviamo il il duo del bronzing sia in stick che che in polvere queste quelle stick credo vi possa fare anche queste e quelle stick che lei dice che è adatto a a qualsiasi persona nel senso anche incarnati abbastanza chiari ovviamente lo dovete sfumare e vi aiuterà diciamo a dare anche un po di luminosità per quanto riguarda il viso e la stessa cosa questa che sarebbe la terra che è adatta a qualsiasi incarnato o perlomeno un incarnato abbastanza chiaro come il mio io sono tra il chiaro e il medio scusate e ha una setosità pazzesca cioè a me piace tantissimo io l'ho utilizzato e sto imparando a utilizzarlo quindi questo è il colore vedete che è abbastanza chiaro quindi riuscirete a sfumarlo benissimo e ovviamente tramite la manualità io sto imparando anche a dosarlo e a metterlo leggermente oggi non l'ho indosso perché ho utilizzato altre cose e sto studiando proprio come mettere la terra fare il contouring e tutto un altro set che mi ha consigliato giulia è questo qui era questo questo no questo è quello è l'ultimo un altro set scusate è questo che sarebbe dove trovate due c'è un illuminante e il il gloss piccolino io sto facendo la collezione dei gloss l'altro ce l'ho lì il gloss in questione è questo che sarebbe il sweet mood che è questo qui è davvero bellissimo io molto spesso dipende come faccio i trucchi questo è proprio un colore semplice semplice molto molto chiaro potete mettere una matita al di sotto e poi utilizzare questo vedete è proprio chiaro chiaro si intona in base al vostro anche colorito delle labbra perché molte persone ce le hanno abbastanza pigmentate e poi questo bellissimo illuminante che è una cosa pazzesca veramente ve lo faccio vedere guardate qua e io voglio utilizzarlo anche come come ombretto e questo è l'illuminante cioè guardate che luce fa riflessa con la ring light è una goduria veramente veramente molto molto bello l'ultimo che ha fatto vedere è il suo proferito perché ha sì l'altro gloss che sarebbe questo ma in più ha l'illuminante quello diamond che a lei piace tantissimo che lei ha in full size che ha anche fatto vedere che ci sono dei dupe però io volevo questo assolutamente quindi l'ho preso ed è questo cioè spero di non accecarvi con la luce perché è fantastico ed ha una mamma mia è bellissimo cioè non si può capire il il tatto di questo di questo illuminante è bello 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 veramente questo qui vedete cioè non si sente non è impalpabile non ha dei glitter in all'interno quindi non si sente proprio ed è bellissimo veramente molto molto bello e quindi non potevo non acquistarli tramite altri ovviamente sui video una scoperta che per me sta cambiando anche la mia base e in un video vi farò vedere proprio la mia base non so se lo metterò prima o dopo ma in caso ve lo metterò nelle schede e questa cipria in polvere libera della to face ed è la peach perfect questa è la cipria in polvere libera vedete qui alla polverina a me piace tantissimo allora io lo metto proprio sotto l'occhio dopo che ho messo il correttore con il pennello questo qui di di nabla e lo picchietto proprio come fa a vedere lei in questo in questa maniera è sinceramente è ottimo veramente ottimo mi piace tantissimo l'ho provata l'altro giorno proprio facendo il test per quanto riguarda la base e mi è piaciuta da matti e credo che prenderò anche la full size perché questa cipria mi sta piacendo tantissimo un altro prodotto per quanto riguarda gli occhi che ho acquistato tramite i suoi video è questa qui che è una crema contorno occhi proprio della linea di sephora vediamo se riesco a farvela vedere aspettate ecco qui questa è la crema questa è la crema questa è la crema contorno occhi di sephora che lei dice si adatta alle persone la sto utilizzando ovviamente che si adatta alle persone anche più grandi quindi di degli anta diciamo così quindi avendo io 40 anni è ottima anche per il mio contorno occhi che io ce l'ho abbastanza secco e devo dire che la sto utilizzando oltre per quanto riguarda quando mi trucco la sto utilizzando anche la sera quando mi strucca mi metto la mia crema sto utilizzando questa e proprio mi ammorbidisce tantissimo il contorno occhi e devo dire che mi sto trovando bene quindi ottimi ottimi suoi consigli un altro prodotto che ha consigliato sempre lei per quanto riguarda le ciprie è la cipria questa qui di nabla io l'ho acquistata sempre tramite i suoi consigli e devo dire che è ottima già l'ho utilizzata l'ho utilizzata due volte l'ho utilizzata quando sono stata fuori per delle cerimonie quindi ho avuto la crescima di mio nipote e ho utilizzato questa cipria su tutto il viso non avevo ancora questa qui della Too Faced e sinceramente è una cipria ottima io ho utilizzato il fondotinta della Maybelline e poi ho messo questa al di sopra io oltre che non sentivo niente al tatto veramente non sentivo quella pesantezza del fondotinta e tutto non lo sentivo e questa cipria mi ha aiutato tantissimo perché non mi sono lucidata oltre che io ho un colorito ho una pelle abbastanza secca quindi non mi lucido però siccome c'era caldo quindi siccome era il procinto dell'estate faceva caldo io non mi sono né lucidata né niente le foto sono venute perfettamente quindi non ho avuto nessun tipo di problema ed è una cipria veramente ottima un'altra cosa che lei ha consigliato ovviamente non ha consigliato proprio questo colore ma ho consigliato questo tipo di rossetto ed è fantastica è stata una scoperta sensazionale ed è della make up revolution pro ed è il new neutral questo con il packaging tutto animalier dolato Io ho preso la colorazione stripped e devo dire che è fantastico Allora io l'ho indossato, ovvio è un rossetto, il packaging è fantastico Tutto animaliere, bello, bello, bello Io l'ho indossato, ho preso il caffè da mia mamma Ovviamente nella tazzina c'era il bordo delle mie labbra, però è rimasto fantastico Questo è il colore ed è tipo un soft matte Assomiglia tantissimo a quelli di Huda Beauty ed è veramente fantastico Vi faccio lo swatch proprio del colore, a me piace perché è un colore nude E io lo utilizzo tantissimo quando faccio dei trucchi abbastanza particolari Se devo andare ad esempio solo a prendere il caffè da mia mamma Non voglio esagerare nel rossetto e tutto, quindi utilizzo questo tipo di colore E devo dire che è fantastico, mi piace tantissimo Rende le labbra morbide, non me le ha seccate assolutamente E devo dire che è un'ottima scelta Un altro prodotto che ho acquistato tramite i suoi video Anzi, scusate, gli ultimi tre prodotti che vi faccio vedere sono un po' datati Perché sono stati acquistati già da un bel po' Sempre ovviamente tramite i suoi video Uno di cui vi parlo è l'illuminante, questo qui della Smashbox Della linea più Vlada, che sarebbe questo qui Dove c'è la rosa E veramente sono andata in fissa con questo illuminante Perché per trovarlo mi sono girata un sacco di Gardenia Perché prima Smashbox veniva venduta soltanto da Gardenia Invece adesso la trovo anche da Douglas Poi l'ho trovato, l'ho trovato alle porte di Catania E quindi l'ho acquistato Questo illuminante è pazzesco, veramente pazzesco Adesso ve lo faccio vedere Questo l'ho utilizzato in estate Sulle spalle Perché avevo un vestitino con le bratelline E quindi l'ho utilizzato sulle spalle Non l'ho utilizzato sul viso, sinceramente Ed è bellissimo, veramente molto molto bello È un bellissimo illuminante Lo dovete vedere e lo dovete veramente Indossare Perché è una cosa fantastica Cioè guardate che luce Guardate che luce Non è appiccicoso Ma fa una luce ragazzi pazzesca Veramente pazzesca A me piace tantissimo Io l'ho indossato Poi a me piace questo qui Perché sulla base delle rosa C'era anche sulla base dell'argento Se non mi sbaglio Ma a me piaceva tantissimo questo Perché è un rose gold Ed è fantastico Fa una luce Proprio veramente Io ce l'avevo sulle spalle Quindi si illuminava un po' La parte diciamo Scoperta del Del mio corpo Gli ultimi due prodotti Che vi faccio vedere Sono state una fissa Per cui ho comprato Veramente L'ho fatto subito L'acquisto Quando ho visto questi prodotti E si trattano Di due prodotti Che si utilizzano Proprio per la base Il primo che vi faccio vedere È questo set di spugnette Veramente Lei Ha fatto vedere Questi tipi di spugnette Io l'ho rimessa qua dentro Perché è quella che sto utilizzando Ce l'ho rimessa qua dentro Ce l'ho messa qui nella postazione Perché è quella che sto utilizzando Sarebbe la Simil Real Techniques Vi faccio vedere Con quella originale Che ce l'ho qui Ovviamente Questa è quella Gonfiata Nel senso Bagnata Scusate non gonfiata Bagnata E questa è quella più piccola E devo dire che Questa Bagnandola Diventa proprio Identica Identica Spiccicata A questa Identica Proprio identica Come morbidezza Come applicazione Devo dire che sono Ottime Ottime Veramente Poi ci sono le altre Vabbè Un po' è venuta Sfornata diversamente Però C'è tipo questa Che è simile a quella di Nabla E c'è anche questa qui Che è simile a quella Della Della Beauty Blender Originale Che io ho qua Vi faccio vedere così Questa Questa qui Questa 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 È l'originale E questa È la Beauty Blender Diciamo Di Di Amazon Questa ovviamente È bagnata E questa no Devo dire che Sono ottime 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 Spugnette Devo dire Ho fatto un acquisto Super Perché queste spugnette Venivano pochissimo Sulle 6 euro E qualcosa Se non mi sbaglio E ce ne sono 8-9 euro Scusate 8-9 euro E ce ne sono 6 all'interno Sono di una morbidezza pazzesca Io faccio la collezione Delle spugnette Quindi le trovate Di tutti i tipi Di tutti i colori Di tutte le maniere Perché ho una fissa Perché ho una fissa Per le spugnette Per i pennelli Però devo dire Che questi Come qualità 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 Come qualità E prezzo Sono davvero Ottime L'ultima cosa Iconic London Che è questa Allora Prima di tutto Questo è il set Di pennelli Vi faccio vedere Quello più grande Così da farvi vedere Tutto il packaging Bellissimo Stupenderrimo Il packaging Di questo pennello È questo Ha questa forma È tutto unito Tramite questa parte Qua Ed è Non so che materiale sia Credo che sia Sempre plastica Con la scritta Iconic London Qua Bellissimo Ha delle setole Molto Ma molto Ma molto Fitte Io ho applicato Il fondotinta E devo dire Che essendo abbastanza grosso Con due Tre strisciate Già Già avete completato Il viso Io lo voglio utilizzare Con voi Perché anche La parte del correttore Cioè Questi sono I pennelli Aspettate che li faccio vedere Allora Questi sono I quattro pennelli Che venivano venduti Nel set E io ovviamente Li ho presi Tutte e quattro Allora Sono morbidissime Di una Morb... Morb... Borbosità Allora Sono morbidissimi Veramente Molto molto morbidi Questo è adatto Per il fondotinta Poi ce n'è Uno che Potete utilizzare O per il contouring Però se avete una Una faccia abbastanza grossa O per il blush Dipende che applicazione volete E c'è anche quello Per il correttore Che io voglio utilizzare E li voglio utilizzare Io ho utilizzato soltanto Quello per il fondotinta Io li voglio utilizzare Facendo un video Facendovi vedere Le applicazioni Di questi pennelli Devo dire che sono Fantastici Io quando li ho acquistati Me ne hanno regalato Anche un altro Però non di questo Un altro tipo E se non ricordo male Ho fatto anche il video Quindi ve lo linkerò Qua sopra Nelle schede Ed è veramente Ottimo Ottimo Veramente Una morbidezza Pazzesca Pazzesca Io adoro 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 Questi pennelli Niente ragazze Per quanto riguarda Questo primo video Delle make up angel Ho finito Sono contentissima Di avervi fatto vedere Questi prodotti Perché sono dei prodotti Che veramente Ci tengo tantissimo Perché sto utilizzando E sono rimasta Contenta Dei miei acquisti Spero che vi siano piaciute Anche Le altre due ragazze Che sono in collaborazione Con me Ovviamente Fabiana E Elisabetta Ovviamente Appena finite Di vedere il mio Andate subito E dico subito A vedere Il loro video Per vedere Cosa hanno acquistato Sempre Dai video Di Giulia Cova Io spero Che a lei Faccia piacere Questo video Quindi Ti mando Un grossissimo bacio Giulia E ti ringrazio Per le chicche Che ci dai E specialmente Di tutti i consigli Che dai Quando Fai vedere Un Un prodotto Perché molto spesso Noi facciamo vedere Un prodotto Ma poi non diciamo Come deve essere applicato Diciamo Non parliamo Se è adatto A una pelle secca A una pelle grassa Eccetera Dal Vangelo Secondo Giulia Cova È tutto Io vi saluto Vi mando Un grossissimo bacio E come vi dico sempre Se vi è piaciuto il mio video Spolliciate E se vi va Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 a tutti Ciao a tutti